Alle prossime amministrative di Pescara il centro-sinistra si presenterà con due se non tre candidati a sindaco. Nessuna intesa e spaccatura insanabile sulla scelta da parte del PD di Carmine Ciofani. I primi a sbattere rapporto ai fratelli Teodoro che non hanno gradito il metodo adottato dal Partito Democratico, a cominciare dal modo con il quale è stata liquidata l'esperienza di Marco Alessandrini, ci ha detto Piernicola Teodoro, ma dubbi anche sul criterio che ha portato all'individuazione di Carmine Ciofani. Non ci sono più le condizioni che ci eravamo dati prima nel centro-sinistra, che erano quelle di individuare un candidato che avesse dei requisiti ben precisi, e cioè il requisito della conoscenza del territorio, il requisito della conoscenza amministrativa, il requisito di essere un uomo di grande consenso che potesse amalgamare intorno a sé, consenso che in questo momento il centro-sinistra ha perso, e poi come ultimo dato, ma non per ultimo, persona onesta, seria e pulita. Purtroppo abbiamo individuato che tre delle quattro caratteristiche non corrispondono al candidato, che il PD, ripeto, il PD non è stato indicato da nessuno, ha voluto imporre alla coalizione. Carmine Ciofani, da noi contattato, preferisce non esporsi più di tanto, conferma la sua disponibilità ma preferisce restare in attesa. Non ha ancora sciolto le riserve invece la parte più a sinistra della coalizione. Sinistra Italiana e MDP, Articolo 1, ci stanno pensando su, ma non è del tutto tramontata l'idea di una mini coalizione di sinistra che possa presentare un proprio candidato. Sono già in piena campagna elettorale invece Erika Alessandrini, del Movimento 5 Stelle, anche ieri insieme al suo staff tra le vie della città per esporre il suo programma tra la gente, e Carlo Costantini, che con le sue liste civiche si propone per portare a compimento il progetto della Grande Pescara. A fila le armi, dopo l'investitura ufficiale dei giorni scorsi da parte di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, Carlo Masci ha il secondo tentativo dopo 16 anni, ma questa volta rispetto ad allora con una coalizione più compatta. La città si è ripiegata su se stessa, ha perso quello slancio che ha sempre avuto. Io mi auguro di poter essere il sindaco, se i cittadini vorranno, che rilancerà questa città anche con il progetto della Grande Pescara, ma soprattutto guardando anche le periferie, un'attenzione maggiore al disagio sociale, che in questi anni si è sviluppato tantissimo e che è diventata una piaga che deve essere assolutamente risolta.